Oggi è il 3 giugno. 1940, la ritirata di Dunkirk. 1989, Cina. Il governo reprime le proteste di piazza Tiananmen. 1849, le truppe francesi assediano la Repubblica Romana. Commenta il fatto del giorno Giorgio Moulet, direttore di Panorama. Oggi ci lascia il Papa Buono. Oggi raggiunge la casa del padre, Papa Giovanni XXIII.